Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Sono d'accordo per continuare a inviarle e poi guardate c'è un 28,4% che dice ero d'accordo ma adesso penso che si debba ridurre o annullare l'invio di armi. Quindi se noi sommiamo quelli che non sono mai stati d'accordo con quelli che adesso non sono più d'accordo arriviamo a 38 più 28 insomma arriviamo arriviamo a oltre il 65%. Ecco vediamo il cartello successivo l'Italia e l'Europa dovrebbero continuare ecco questo qui è scomposto per partiti. La stessa domanda continuare ad armare Zelensky vedete che qui a non essere mai stati d'accordo sono soprattutto la Lega e i 5 Stelle con 46 e 38 invece 29,3 fratelli d'Italia solo il 13,7% del PD non è mai stato d'accordo con l'armare Zelensky. Sono d'accordo indiscriminatamente quelli del PD 62,4% più di tutti poi fratelli d'Italia 36,8 poi 5 Stelle 28 e 21 la Lega. Qui vedete proprio come si costruiscono i blocchi. Infine ero d'accordo ma adesso ho cambiato idea bisogna ridurre o non dargliele più. Vedete che sono 33,32,33 fratelli d'Italia Lega e 5 Stelle 23,9% per il PD. Il PD insomma è il partito più propenso a continuare a sostenere l'Ucraina con le armi. Allora Allora Allora